Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano Costui è posseduto da Bezebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero Ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui disse Ecco mia madre e i miei fratelli perché chi fa la volontà di Dio costui è per me fratello, sorella e madre. E' fuori di sé, dicono di Gesù i suoi. E non è la prima volta che Gesù entra in contrasto con la sua famiglia. Vi ricordate l'episodio famoso di Maria e Giuseppe Che cercano Gesù dodicenne nel Tempio Perché era sfuggito al loro controllo Gesù non è tenero con loro E lì l'improvera Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E sembra proprio che gli evangelisti vogliano presentare ai lettori del Vangelo Il coraggio di Gesù di essere maestro ed educatore anche dei suoi genitori. E' vero Gesù cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini dice il Vangelo Ma nel crescere con papà e mamma Gesù non ha mai rinunciato all'altro dovere che spetta ad ogni figlio Quello cioè di assumersi il coraggio di educare e di aiutare a crescere i propri genitori. Noi non siamo abituati a fermare l'attenzione su questo specifico compito che spetta ai figli Ma su questo aspetto il Vangelo è chiarissimo A mamma e fratelli che lo vogliono prendere e catturare Perché quasi sicuramente non condividono con gli altri parenti che lui sia ormai fuori di sé Gesù non fa sconti Fissa la folla che lo circonda e individua in questa folla sua mamma e i suoi fratelli E con un invito tanto forte Gesù dice loro Se volete continuare a relazionarvi con me Cara mamma e cari fratelli Entrate in questo gruppo e lasciatevi educare dalla mia parola Che vi spiega come fare la volontà di Dio Difficile entrare per noi nel cuore di Maria Dopo queste parole che a noi suonano durissime Impossibile capire che cosa hanno pensato i parenti di Gesù Che si vedono invitati a oltrepassare i vincoli biologici Quando questi diventano possesso, titoli di proprietà O autorizzazioni al controllo e a sottomettere Gesù però ha chiaro in testa Quello che Dio ha ordinato Qual era la volontà di Dio? Quando si dice nel testo della Bibbia Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre E si unirà a sua moglie E i due saranno un'unica carne Il che significa Che lasciare padre e madre È parte integrante Della volontà di Dio Ed è la vera premessa Che assicura libertà interiore Fecondità ai figli e ai senitori Ma mi si permetta Di scendere ulteriormente in profondità Perché gli studiosi si domandano Quelli dell'Antico Testamento Dio ha rivolto questa precisa indicazione Di lasciare padre e madre Ad Adamo ed Eva Gli unici che non avevano genitori La risposta è formativa Perché Dio li vede già come genitori E vuole donare loro Con la forza della sua parola Il coraggio e la forza Di lasciare andare i propri figli Se i genitori non hanno chiaro Questo compito E non aiutano i figli a staccarsi Dal clan familiare Le nostre case diventano trappole Per gli uni i genitori E per gli altri i figli Trappole che costringono a vivere In relazioni tossiche Dove nessuno è libero E dove nessuno cresce E tutti un po' alla volta si ammalano Quando si dice che il Vangelo È buona notizia Si afferma proprio questo Che la parola di Gesù È spada Che educa Che cura Che taglia E che irrobustisce Le nostre relazioni familiari Perché queste Non abbiano a perdere La vera forza Dell'amore genitoriale Che è data Dal coraggio interiore Del lasciare andare il figlio Per la loro strada Senza ricatti affettivi E senza gli invisibili vincoli Che mangiano la libertà In questo momento Sto pensando Alle nostre famiglie Ai nostri papà E mamma E ai nostri ragazzi Sono consapevole Che culturalmente Abbiamo fatto dei passi in avanti Rispetto alle generazioni precedenti Ma sono anche convinto Che calo demografico E maggior benessere Indeboliscano Nei genitori di oggi Il coraggio Di lasciare andare I propri figli Dalle case Ipercomode Affinché Non venga mai Loro in mente Ai figli L'idea di andarsene Al fare tutto Perché I figli Diventino Amici E complici Perché I genitori Hanno bisogno di questo Per non stare in ansia Hanno bisogno di Garantire La vicinanza Del figlio Ecco perché Adesso Attraverso i nuovi strumenti Lo Geolocalizzano Dappertutto Tante volte Questi genitori Si sostituiscono Ai figli In tutto E per tutto Anche se Maggiorenni Adulti E già Genitori E Sono alcune Delle tante Formi Di oggi Con cui Si decide Di non Staccarsi Dai figli Perché Incapazzi Di pensarsi Separati Da loro Oltre una Certa età Il Vangelo Di oggi È però Una buona Notizia La richiesta Che Gesù pone A sua mamma E i suoi fratelli Non è contro Di loro Ma il solo Modo Perché mamma E fratelli Escano Dei ruoli Predefiniti E ritrovino Il figlio E il fratello In quel contesto Ampio Che si chiama Comunità I nostri vecchi Educati Alla scuola Di Gesù Lo sapevano Lasciare andare I figli Era il solo Modo Per non Perderli Per averli Sempre vicino Anche se Dall'altra parte Del mondo Oggi Per non Allontanarsi Troppo Da loro I senitori Non lasciano Andare i figli E anche Per questo Forse Che molti Dei nostri Giovani Adulti Dicono Di sentirsi Persi Soli Alle prese Con troppa ansia Allora Lasciamoci Tutti Educare Da Gesù E buona Domenica A tutti Ho scritto Questa preghiera Per i bambini Caro Gesù Anche i tuoi A un certo punto Della tua vita Ti hanno considerato Un pazzo O come dice Il testo Fuori di sé Hai disorientato Tutti Ti sei lasciato Circondare Da chiunque Era nel bisogno E non hai mai Fatto Nessuna Discriminazione Tra ricchi e poveri Tra sani e malati Tappuri e impuri Tra religiosi E peccatori E non ti sei lasciato Ti sei lasciato Prendere Catturare O fermare Da nessuno Mamma E familiari Compresi Aiutami a essere Come te Gesù Pronto a farmi Educare Dai miei genitori Ma disposto Anche A guidare Loro Quando tocca A me Insegnare O dare L'esempio E grazie Gesù Perché oggi Ci ricordi Che senza Un po' Di sana Follia Nella vita Non si fa Niente Anche San Francesco Lo hanno chiamato Folle Ma la vera Pazzia È vivere Per i soldi Per accumulare O senza Mai donare Nulla Per poi Ritrovarsi Incapaci Di amare Gesù Aiutami A non stare Mai Fuori Dalla cerchia Dei tuoi amici E grazie